buongiorno a tutti oggi vi farò vedere come preparare il pesto in modo da rendere chitogenici molti piatti dalla semplice burrata a un filetto e persino come il condimento degli zudos, gli spaghetti di zucchine. Ingredienti 80 g di foglie di basilico, aglio in polvere, alcuni pinoli, sale, 60 g di parmigiano grattugiato e 80 ml di olio d'oliva. Frullate basilico, parmigiano, pinoli e aglio in polvere. Quando avrete una polvere verde aggiungete un po' di sale e gli 80 ml di olio d'oliva e il vostro pesto sarà buonissimo. Spero che la ricetta di oggi vi sia piaciuta e che vi iscriviate al mio canale. Pubblicherò ogni venerdì un piatto chitogenico in italiano ma anche il lunedì lo stesso piatto in inglese e il mercoledì in spagnolo. Se volete un'altra salsa che possa rendere chitogenici i vostri piatti guardate quest'altra ricetta e troverete una buonissima crema di gorgonzola.